Controlli antispaccio della polizia nell'area degradata dell'ex ospedale a Lido con l'aiuto di un'unità cinofila. I faticenti edifici della struttura sono diventati ormai da tempo, ritrovo abituale di sbandati e spacciatori. Denunciati due senegalesi, di cui uno è irregolare, entrambi senza fissa dimora, trovati in possesso di 24 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Al clandestino è stato notificato un decreto di espulsione.